E soprattutto, tosto con un toro! Hanno bussato! Eh, non si disturbi, vado via ad aprire! Grazie, spettore, grazie! Saranno fanosi, eh no, non ho sbagliato, fanosi, ma perché? Ma perché a chi lo chiediamo? Allora, saranno fanosi perché questo è un gruppo costituito da sette persone che va avanti già da 5-6 anni e praticamente c'è solamente un fanese, poi c'è un napoletano, un romano, un aquilano, San Costano, insomma c'è tutto il circondario delle marche fuori delle marche e per quello abbiamo detto perché magari o diventiamo famosi oppure impariamo tutto il fanese e diventiamo fanesi. Da qui, fanosi, che è una via di mezzo. Ci piace questa cosa, però l'artefice, colui che ha scritto, insomma, provveduto alla stesura del testo, sei tu e quindi possiamo fare un piccolo riassunto di quello che vedremo. Una piccolissima premessa. Il testo è stato scritto da me, però è stato poi integrato con i contributi di tutti quanti. Una battuta, un'idea, una scelta, una trovata e proprio per questo motivo corale la commedia è diventata bella e divertente perché lo è e vi invitiamo a venirla a vedere. In brevissimo, i fantasmi non fanno paura. Generalmente i fantasmi incutono terrore e il titolo invece invita a non averne paura. Ma perché? Beh, questo lo invitiamo, invitiamo tutti quanti a venirlo a vedere e soprattutto verranno a scoprire chi sono veramente questi fantasmi. Bene, non svelatecelo ora perché l'appuntamento è alla BCC Arena. Quando? Il giorno primo settembre è venerdì, sì, alle 21.